Siamo a San Giorgio davanti alla chiesa con il parroco Don Claudio Carbeni avete appena finito la riunione con alcuni direttori degli uffici perché sappiamo che la preparazione avviene anche tramite loro allora come vi state preparando e che cosa prevede questo tempo di attesa quindi la prima fase della visita pastorale? Sicuramente è un tempo di grazie a quello che vivremo con il nostro Vescovo nella visita pastorale da noi il Vescovo sarà presente per quasi l'intero tempo pasquale durante il prossimo mese di aprile e maggio stiamo muovendo i primi passi di questa avventura in questo vicariato dove il territorio non è omogeneo va dalla pianura all'alta montagna e sicuramente per la sua ampiezza ma anche per oltre che per la configurazione ma anche per la densità della popolazione che compongono le diverse parrocchie stiamo muovendo i primi passi oggi il primo incontro con i sacerdoti e poi saranno coinvolti soprattutto anche i laici in questo tempo di preparazione non solo nella celebrazione sicuramente ma anche nel tempo di preparazione per quanto riguarda la preparazione di tutti quegli strumenti che ci sono dati appunto dagli uffici competenti per preparare questo evento importante del Vescovo padriano con noi. Secondo te Don Claudio quali sono sia le criticità ma anche le risorse che questo vicariato così o disomogeneo come dicevi tu possono essere presentate durante una visita pastorale e sarebbe bello che il Vescovo toccasse anche Cobano durante quei giorni di permanenza? Beh sicuramente c'è lo spopolamento della montagna che è una criticità Don Stefano parroco e moderatore della comunità pastorale di Ferriere e Farini faceva presente lo spopolamento della montagna e poi una massiccia presenza durante il tempo estivo sui nostri bei monti e quindi ecco tutta una complessità anche pastorale che porta verso un ripensamento di quelle che sono delle nuove linee pastorali pensando al futuro. Nelle grandi parrocchie invece c'è da fare i conti da confrontarsi con una realtà con la presenza di persone ed immigrati che anche se hanno una diversa fede rispetto a quella cristiana cattolica con i quali dobbiamo è giunto il tempo di confrontarci e poi naturalmente ecco anche la partecipazione alle nostre assemblee liturgiche che nel periodo post-covid ecco la frequenza è diminuita. Ci sono anche tante risorse sicuramente ci sono laici impegnati che amano le loro comunità e questa è una caratteristica anche delle parrocchiette di montagna. Mi sento di ringraziare veramente quelle persone che con amore si dedicano al decoro, all'abbellimento, al tenere aperto anche le nostre piccole chiese di montagna perché per loro sono un punto di riferimento. Ci sono catechisti appassionati che accompagnano i nostri bambini, i nostri ragazzi in un cammino di fede e questo lo fanno con tanto amore e con tanta dedizione. Ci sono giovani che gravitano ancora grazie al cielo attorno alle nostre parrocchie e naturalmente ecco devono essere loro punto di aggregazione anche per i loro coetanei che magari sono lontani da quello che è un cammino di fede dopo il cammino dopo aver celebrato il sacramento della Crescima. Che opportunità può essere per le comunità pastorali questo tempo di attesa, un'attesa attiva, fattiva del nostro Vescovo? Sicuramente tante sono le attese che noi ci aspettiamo dal Vescovo. Anche lui non ha la bacchetta magica per risolvere i problemi. E sicuramente ecco io mi auguro che ci sia un risveglio, una presa di coscienza anche del nostro essere cristiani. Il Vescovo risiederà alcuni giorni, la settimana in mezzo a noi e quindi lui avrà l'opportunità di rendersi conto, di rendersi presente in tante situazioni, ad esempio la visita ai nostri anziani, ai nostri malati, incontri significativi con categorie di persone sul nostro territorio, l'incontro nelle scuole con i nostri ragazzi e con ragazzi anche che appartengono a tradizione, dicevo, ad esperienze di fede diverse da quella cristiana cattolica. Sicuramente è un'opportunità e poi l'incontro anche con le amministrazioni. Ecco il passaggio del Vescovo, ecco io mi auguro che serva proprio per risvegliare quella che è la vita delle nostre comunità, delle nostre parrocchie che hanno bisogno, secondo me, di una parola autorevole del pastore, di colui che è a capo e che viene a confermarci nella fede. Allora io sono Don Fausto Arrisi, sono parroco qui a Podenzano e sono moderatore della comunità pastorale che comprende oltre a Podenzano le parrocchie di Altoè, Maiano, Verano, Turro Gariga e San Polo e i Vaccari. Insieme a me ci sono Don Severino Mondelli, Don Silvio Cavalli e siamo in questa comunità pastorale che praticamente si estende, comprende tutto il comune di Podenzano. Dal punto di vista, diciamo così, logistico, geografico, una comunità pastorale molto omogenea, è tutta in pianura. Fra l'altro la breve distanza che si è fra le varie parrocchie sicuramente aiuta intanto negli spostamenti, aiuta nei rapporti e aiuta anche il fatto di superare un po' dei campanilismi. È evidente che non basta, non è scontato assolutamente, però aiuta tutto questo. Di fatto anche prima della costituzione della comunità pastorale abbiamo sicuramente anche per il bel rapporto di stima, di amicizia che c'è fra noi preti, abbiamo già cominciato a collaborare prima della costituzione della comunità pastorale, in modo particolare con il catechismo dei ragazzi, dei giovani, con la caritas, naturalmente c'è la caritas di comunità pastorale, e anche con la catechese che facciamo sempre in avvento e in quaresima, catechesi rivolte agli adulti. Certamente la preparazione poi dopo di questa visita pastorale ci ha aiutato, una preparazione che è avvenuta a livello di vicariato a partire già da gennaio, e naturalmente ha aiutato a riprendere i contatti, ha aiutato la collaborazione, e ha iniziato anche la, chiamiamo così, la costituzione della coinonia, che per varie vicissitudini non avevamo ancora dato inizio. Allora, dicevo appunto della collaborazione, la collaborazione fra vari gruppi e anche alcune associazioni che sono esistenti qui in paese, c'è a vari livelli, è una bella collaborazione che si estende in modo particolare a delle iniziative precise come per esempio la festa missionaria, come per esempio la mostra dei presepi che facciamo qui in oratorio, cose che coinvolgono sicuramente anche a questo livello parecchi adulti, genitori e famiglie. Ecco, uno dei punti su cui credo dobbiamo impegnarci, lavorare e crescere è a livello del senso di appartenenza. Facciamo parecchie cose insieme, però secondo me dobbiamo passare dalla, a me viene da dire così, dalla collaborazione fattiva, o che c'è e che credo che sia una cosa bella e importante, però ha un senso di fraternità, di appartenenza gli uni agli altri. Il Papa Benedetto parlava di corresponsabilità, quindi letteralmente l'essere responsabili insieme, l'avere a cuore gli uni gli altri, il destino degli altri, il cammino degli altri, in modo tale da fare anche da collante, diciamo così, fra carismi vari, ma anche sensibilità e temperamenti che se naturalmente sono, se sono messi insieme, sono a servizio davvero della crescita della comunità cristiana. Questo è un punto, diciamo, su cui lavorare. Un punto di forza, o meglio, prendendo a prestito anche il linguaggio utilizzato nel cammino sinodale, uno dei germogli, è sicuramente il lavoro, l'impegno che facciamo in tutte le parrocchie, che facciamo con i giovani, per i giovani, ma anche con i giovani. Sono davvero tante le iniziative che facciamo a loro favore e credo che anche incontrino il favore dei ragazzi. Un'altra cosa bella, secondo me, è che non ci sono, come dire, buchi fra le varie annate o le varie generazioni e questo sicuramente aiuta, per esempio, i bambini più piccoli a vedere davanti a sé non soltanto della gente grande, adulta, che evidentemente ci vuole, ma dei ragazzi appena un po' più grandi di loro in modo tale che, fra l'altro, appena usciti dalla cresima, eccetera, però chiedono in tanti di impegnarsi sia come aiuto educatori, sia come aiuto catechisti e in tutte queste cose. Un'altra cosa su cui lavorare, naturalmente, è un po' la catechesi e il lavoro fra adulti e con le famiglie, purtroppo non c'è ancora, abbiamo fatto diversi tentativi, ma non c'è un gruppo famiglie, le aspettative, intanto c'è molta attesa, molta attesa, anche curiosità. Ecco, per esempio, rispetto alle visite pastorali di un tempo, non c'è timore, meno. Non ci dovrebbe essere timore o preoccupazioni varie. Le aspettative sono, appunto, di essere magari aiutati, appunto, in queste cose qua, sul senso di appartenenza, sul lavorare insieme con gli adulti per i ragazzi e curiosità e desiderio di far crescere insieme questa comunità che, credo, possa, io posso dire, è già molto bella, però, naturalmente, bisogna sempre andare avanti. Sono Trucchi Marco e sono della parrocchia di San Germano in Podenzano. Mi occupo principalmente della scuola Cantorum, in cui canto e animiamo le feste più importanti della liturgia durante l'anno, ma canto regolarmente a tutte le messe, le domeniche, dirigo qualche volta anche i giovani, mi diletto anche in questo. Sono un lettore, leggo praticamente tutte le domeniche, che io ho un lettore anche stasera, parteciperò al lettore. Ho partecipato, ho seguito tutti i lavori che sono stati fatti dall'inizio, da quest'inverno, dalle prime riunioni, per preparare questa visita pastolare, che io ancora non conoscevo, perché è la prima volta a cui partecipo veramente così. e ho visto che c'è tanta volontà, tanta voglia di fare, di ascoltare la parola del Vescovo, che ci dirà, ci darà un indirizzo, ci darà, lo ascolteremo per dirci qualcosa, perché per me è una cosa nuova e sono curioso di capire anche in che direzione dovremo andare e lui sicuramente ci indicherà la strada. Io non voglio che il Vescovo veda quello che non c'è, deve vedere come sta andando adesso la nostra parrocchia. È chiaro che a livello di comunità pastorale, non essendo ancora partita, non vedrà tantissimo, però vedrà i ragazzi, come lavorano i catechisti, c'è la scuola materna, c'è la casa di riposo, quindi vedrà tante cose che ci sono, che ci sono già, ma ci dirà anche come dovrebbero andare. Lui vedrà come sono, ma lui ci dovrà dire come dovranno andare da adesso in poi, quello che dovremo fare. Sono Matteo Bottazzi, abito nel comune di Podenzano, faccio parte della comunità pastorale di Turro, quindi sono un membro del consiglio pastorale e faccio anche il catechista a San Polo, quindi nella parrocchia di San Polo. Allora, abbiamo incominciato questa preparazione verso fine novembre e non avendo molto chiaro quello che sarebbe stato tutto il processo di preparazione, però devo dire che è stato interessante perché è stata un'occasione per confrontarsi con realtà molto diverse, a partire dall'Alta Valnura fino alla pianura e quindi piano piano abbiamo iniziato a conoscerci e poi anche a delineare quelli che sono stati gli incontri di vicariato, quindi quelli comuni a tutte le varie comunità pastorali e infine abbiamo poi delineato il programma vero e proprio all'interno della nostra comunità, quindi Podenzano, Turro, San Polo e i Vacari. Beh, dal Vescovo io mi aspetto che veda proprio la realtà com'è, senza mettere in mezzo cose artificiali, quindi fare questo perché viene il Vescovo. Insomma, ci terrei che vedesse la situazione com'è, anche perché ci è stato proprio consigliato di prepararla così, quindi nella preparazione ci siamo ottenuti molto a questo mandato e ho molta curiosità di avere un riscontro da parte sua, sarebbe interessante e utile anche capire come ha vissuto questo periodo qui da noi e se ha qualche consiglio, qualche indicazione di merito. Come punto da migliorare è quello magari di coinvolgere più persone nell'organizzazione delle attività, perché si fa sempre un po' fatica, però è anche vero che questa è una realtà che non è identica nelle varie parrocchie, quindi magari Podenzano c'è una situazione di un certo tipo, anche perché è più grande, mentre nelle altre sono realtà magari un po' più piccole e quindi diverse. Allora, io mi chiamo Chiara Orsi, sono della parrocchia di Podenzano, qui faccio la catechista a una classe di prima media e sono anche volontaria della SOFA e faccio parte dell'azione cattolica parrocchiale. Noi ci siamo riuniti come gruppo di comunità pastorale per la prima volta, perché qui la comunità pastorale non è ancora stata avviata e quello che ci piacerebbe, che a me personalmente piacerebbe, sarebbe poter finalmente partire con la comunità pastorale, perché secondo me è una bella occasione anche per unire le forze e condividere i bisogni e anche le soluzioni. È vero che Podenzano è una parrocchia grande e quindi ci sono tante attività e tante iniziative, ma secondo me mettersi insieme vuol dire anche magari acquisire un punto di vista diverso, provare a abbandonare certe cose che si sono sempre fatte nello stesso modo per provare a trovare delle cose nuove, anche più adatte al nostro tempo. Io mi aspetto che sia come una festa, nel senso che comunque anche nella lettera che ha inviato il Vescovo lui non viene per controllare ma per condividere l'esperienza che si fa nella parrocchia e quindi io mi aspetto che sia un momento di condivisione, di incontro e sì che sia comunque una cosa bella. Poi chiaramente la realtà non è tutta rose e fiori, e quindi usciranno anche le difficoltà, le mancanze, i punti critici, però nel complesso è comunque un incontro tra persone della parrocchia che incontrano il loro Vescovo.